Detto fatto, in un paio di giorni l'amministrazione comunale di Avellino ha fatto completare l'allestimento del parcheggio nell'area di Piazza Macello che prima ospitava lo stazionamento dei Pulma. Nello spazio dotato di 150 posti auto, però, oltre alle strisce blu e alla segnaletica orizzontale, non è stato realizzato alcun intervento, né per ripianare buche e avvallamenti, né soprattutto per meglio canalizzare le acque piovane che ad ogni temporale rendono il centro del piazzale una specie di lago. Un fattore che, oltre a sconsigliare di lasciare il proprio veicolo parcheggiato lì nei giorni di pioggia, rende la cosa anche molto pericolosa. In attesa dell'avvio di una sistemazione dei sottoservizi e delle canaline di scolo, restano ancora ad attivare anche i parcometri che sono ancora imballati. Nel frattempo, anche di fronte al parcheggio, nella striscia blu che corre lungo via circunvalazione e che ha lasciato spazio alle fermate dei Pulma, non è stata realizzata alcuna pensilina, né la numerazione dei bus per ordinare le singole corse. Un fattore che provoca enormi disagi, specie agli studenti all'uscita di scuola, che devono far ritorno al loro comune di provenienza. Stesso problema anche nel piazzale dello stadio, dove, a fronte dell'allestimento del terminal, non sono state ancora installate pensiline e bagni. Insomma, una situazione sulla quale Comune Air devono assolutamente intervenire.